ero intento a scrivere quando il mio cameriere mi annunciò signore c'è un signore che ha chiesto di poter parlare col signore fatelo entrare vidi un omettino che mi salutava aveva l'aria di uno sparuto maestro di scuola occhialuto col corpo talmente sottile che in nessun punto aderiva ai vestiti troppo larghi disse con molte esitazioni vi chiedo scusa signore scusa per avervi disturbato gli dissi accomodatevi si sedette e ricominciò dio mio signore se sapeste come sono preoccupato per quanto sto per fare ma era indispensabile che vedessi qualcuno e soltanto voi voi insomma mi sono fatto coraggio ma ora veramente ora non oso più osate osate signore ecco signore il fatto è che quando comincerò a parlare voi mi prenderete per matto beh dio mio signore tutto dipende da quel che voi mi direte appunto quel che sto per dirvi è davvero bizzarro ma vi prego di rassicurarvi non sono pazzo proprio perché sono in grado di rendermi conto della stranezza del mio racconto d'accordo signore cominciate pure no signore io non sono pazzo proprio per niente ma ho lo sguardo un po folle che hanno tutti coloro che hanno riflettuto più degli altri che hanno oltrepassato un pochino soltanto un pochino i limiti del pensiero comune ammettete che in questo mondo nessuno esercita il proprio pensiero ognuno si preoccupa solo dei propri affari della propria fortuna dei propri piaceri e insomma della propria vita o di piccole stupidaggini divertenti come il teatro la pittura la musica o la poesia che è la stupidaggine più grossa o infine dei problemi dell'industria ma c'è qualcuno che pensa chi nessuno oh vado fuori strada scusatemi torno al mio argomento vengo qui da cinque anni signore voi non mi conoscete ma io vi conosco bene non mi unisco mai al pubblico che frequenta la spiaggia o il vostro circolo vivo sulle scogliere amo troppo le scogliere dell'etretà non ne conosco di più suggestive di più sane voglio dire sane per lo spirito c'è una strada meravigliosa tra cielo e mare una strada erbosa che corre su quel muraglione su quell'estremo lembo di terra sopra l'oceano ho passato i giorni più belli a sognare su uno di quei pendii erbosi disteso al sole cento metri sopra le onde mi capite sì perfettamente e adesso permettetemi di rivolgervi una domanda d'accordo voi credete che gli altri pianeti siano abitati senza esitare e senza apparire sorpreso risposi ma sì certo lo credo fu preso allora da una gioia violenta si alzò si risedette preso dalla voglia di abbracciarmi e gridò ah che fortuna che felicità respiro ma come ho potuto avere dubbi su di voi un uomo intelligente non può non credere che gli altri mondi siano abitati bisogna essere sciocchi cretini idioti e senza cervello per supporre che miliardi di mondi risplendano e ruotino nell'universo soltanto per divertire o meravigliare l'uomo questo insetto imbecille per non capire che la terra è un granello di polvere invisibile nella polvere dei mondi che l'intero nostro sistema non è costituito altro che da poche molecole di vita siderale destinate a una prossima fine guardate la via lattea quel fiume di stelle e pensate che esse sono solo una macchia nella distesa infinita pensate a questo per dieci minuti e capirete perché noi non sappiamo niente non possiamo prevedere niente non possiamo capire niente non conosciamo che un puntino non sappiamo nulla di quello che esiste oltre e fuori di lui eppure crediamo di sì e facciamo affermazioni ah 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 se all'improvviso ci venisse rivelato il segreto della grande via extraterrestre quale sbalordimento ma no no anch'io sono uno sciocco non riusciremmo a capirlo perché la nostra mente è fatta per capire soltanto le cose di questa terra ne può arrivare più lontano è limitata come la nostra vita incatenata a questa piccola biglia su cui siamo e giudica ogni cosa in base ai suoi parametri vedete dunque caro signore quanto è sciocca l'umanità a trarre vanto dalla sua intelligenza che supera appena l'istinto degli animali non siamo neppure capaci di percepire i nostri limiti noi siamo stati fatti per conoscere il prezzo del burro e quello del grano e tutto al più per poter discutere sul valore dei cavalli delle imbarcazioni dei ministri o degli artisti tutto qui sappiamo a stento coltivare la terra e utilizzare quel che produce appena cominciamo a costruire macchine che funzionano ci meravigliamo come bambini di fronte alle scoperte che avremmo dovuto fare secoli fa se fossimo davvero esseri superiori siamo ancora circondati dall'ignoto anche oggi che dopo migliaia di anni si è intuita da parte della nostra intelligenza l'utilizzazione dell'elettricità siete anche voi del mio parere? risposi sorridendo sì signore molto bene e ditemi se qualche volta vi siete occupato di Marte di Marte? sì del pianeta Marte no signore mi consentite di darvi qualche indicazione su di esso? ma certo con piacere voi sapete senz'altro che i mondi del nostro sistema della nostra piccola famiglia si sono formati a seguito della condensazione in globi di anelli gassosi preesistenti che si erano staccati l'uno dopo l'altro dalla nebulosa solare sì certo da questo fatto deriva che i pianeti più lontani sono i più antichi e debbono essere di conseguenza i più civili eccoli in ordine di nascita urano, saturno, giove, Marte, terra, venere e mercurio siete disposto ad ammettere che anche questi pianeti sono abitati come la terra? sicuro perché mai la terra dovrebbe essere un'eccezione? bene poiché l'uomo di Marte è più antico di quello della terra ma adesso corro troppo prima voglio provarle che Marte è abitato all'incirca presenta ai nostri occhi l'aspetto che la terra deve presentare agli osservatori marziani i mari vi occupano meno spazio e sono più frequenti possiamo riconoscerli dalla tinta nera in quanto l'acqua assorbe la luce mentre i continenti la riflettono su questo pianeta sono frequenti le modificazioni geografiche e ne provano l'attività e la vita su Marte vi sono stagioni simili alle nostre, i ghiacciai ai poli che vediamo aumentare o diminuire a seconda delle epoche il suo anno è molto più lungo 687 giorni terrestri ossia 668 giorni marziani così suddivisi 191 per la primavera 181 per l'estate 149 per l'autunno e 147 per l'inverno si vedono meno nuvole che da noi per cui deve fare più freddo e più caldo lo interruppi mi scusi ma mi scusi ma poiché Marte è molto più lontano da noi dal sole mi sembra che comunque dovrebbe avere una temperatura più fredda il mio strano visitatore cominciò a gridare con ve emenza errore errore assoluto noi altri siamo più lontani dal sole in estate che in inverno fa più freddo sulla cima del monte bianco che alle sue pendici la rimando d'altra parte alla teoria meccanica del calore di Helmholtz e di Schiapparelli il calore del sole dipende essenzialmente dalla quantità di vaporacqueo presente nell'atmosfera ecco perché il potere assorbente di una molecola di vaporacqueo è 16.000 volte superiore a quello di una molecola d'aria secca il vaporeacqueo è dunque il nostro magazzino del calore e visto che su Marte ci sono meno nuvole deve fare sia molto più caldo sia molto più freddo non mazzardo a contrariarvi sta bene e ora ascoltatemi con molta attenzione vi prego l'ho sempre fatto avete sentito parlare dei famosi canali scoperti nel 1884 dal signor Schiapparelli assai poco strano allora dovete sapere che in quell'anno Marte si trovava in opposizione ed era separato dalla terra da soli 24 milioni di leghe Schiapparelli uno degli astronomi più importanti di questo secolo nonché uno degli osservatori più sicuri scoprì improvvisamente una grande quantità di linee nere rettilinee o spezzate secondo forme geometriche costanti e che attraverso i continenti univano tra loro i canali di Marte sì signore canali rettilinei canali geometrici di uguale larghezza in tutto il loro percorso canali costruiti da esseri viventi sì signore è la prova che Marte è abitato da esseri che pensano lavorano e osservano la terra capito avete capito 26 mesi dopo nel momento della successiva opposizione sono stati di nuovo osservati questi canali erano più numerosi eh sì signore e debbono essere giganteschi di una larghezza non inferiore a 100 chilometri mentre rispondevo sorrisse ancora 100 chilometri di larghezza ci saranno voluti operai molto robusti per scavarli ma cosa dice non sa che qualsiasi lavoro è infinitamente più facile su Marte che sulla terra la densità dei suoi elementi costitutive è appena la sessantesima parte dei nostri l'intensità del peso è appena un trentasettesimo della nostra un chilo d'acqua su Marte peserebbe 370 grammi mi buttava in faccia quelle cifre con una tal sicurezza con una tal fiducia da commerciante che ne conosce il valore che non riuscì a non sorridere e provai la voglia di chiedergli quanto pesavano su Marte zucchero e burro scosse la testa ridete mi prendete per un cretino dopo avermi preso per un pazzo ma le cifre che vi cito sono quelle che troverai in qualunque libro di astronomia il diametro di Marte è quasi la metà del nostro la sua superficie corrisponde ai 26 centesimi di quella della terra il volume è 6 volte e mezzo inferiore a quello del nostro pianeta e la velocità dei due satelliti è la prova che il suo peso è 10 volte inferiore al nostro ora poiché la gravità dipende dalla massa e dal volume ossia dal peso e dalla distanza dalla superficie e dal centro è certo che su quel pianeta c'è uno stato di leggerezza che rende la vita del tutto diversa regola le azioni meccaniche in modo per noi scontato e porta sicuramente al predominio delle specie alate sì signore l'essere che è il re su Marte l'equivalente dell'uomo ha le ali vola passa da un continente all'altro vaga come uno spirito attorno al suo universo a cui è legato tuttavia dall'atmosfera che non può oltrepassare benché insomma signore ve lo immaginate questo pianeta coperto di piante alberi e animali di cui non possiamo neanche sospettare le forme abitato da grandi esseri alati simili agli angeli degli affreschi io li vedo volteggiare su campi e città sull'atmosfera dorata che hanno lassù a torto si è pensato che l'atmosfera di Marte fosse rossizza come la nostra e azzurrina ma in realtà è gialla d'un bel giallo dorato adesso vi stupite ancora che queste creature abbiano potuto scavare canali larghi cento chilometri pensate poi a quello che la scienza ha fatto da noi in un secolo considerate che gli abitanti di Marte son forse molto superiori a noi da quell'improvviso abbassò gli occhi e mormorò con un filo di voce ecco è arrivato il momento in cui voi mi prenderete per pazzo quando vi dirò che per poco non li ho veduti io l'altra sera forse sapete ma forse no che siamo nei giorni delle stelle cadenti nella notte tra il 18 e il 19 in particolare ogni anno se ne vedono moltissime è probabile che in quei momenti noi si passi tra i residui di una cometa dunque me ne stavo seduto sulla maneporte su quell'enorme sperone di roccia che fa come un passo nel mare e guardavo la pioggia di piccoli mondi sopra la mia testa è più divertente e più gaio di uno spettacolo di fuochi d'artificio signore all'improvviso ne vidi uno proprio sopra di me vicinissimo un globo luminoso e trasparente circondato da ali immense e palpitanti almeno nel buio quasi tenebroso della notte mi è parso di vedere queste ali volteggiava come un uccello ferito girando su se stesso con un gran fruscio misterioso pareva ansi masse come un moribondo come qualcuno che si è smarrito mi passò proprio davanti era una mostruosa sfera di cristallo piena di esseri terrorizzati che distinguevo appena ma che si agitavano come l'equipaggio di una nave in balia del mare che non governa più e che scivola da un maroso all'altro e dopo aver descritto un'ampissima curva lo strano globo precipitò in mare lontano il rombo della sua caduta era simile a una cannonata e d'altra parte tutti in paese hanno sentito quest'urto formidabile che è stato preso per un tuono soltanto io ho veduto ho veduto se fossero caduti sulla costa vicino a dove ero io noi avremmo conosciuto gli abitanti di Marte non dite niente signore ma pensateci seriamente a lungo e se vorrete un giorno raccontatelo pure sì io ho visto ho visto il primo vascello spaziale lanciato nell'infinito da creature dotate di pensiero a meno che non abbia assistito semplicemente alla caduta ad un meteorite attirato dalla terra perché certo sapete signore che i pianeti danno la caccia ai mondi erranti nello spazio come facciamo noi coi vagabondi la terra che è tanto debole e leggera può fermare nel loro percorso soltanto i più piccoli dei passanti nello spazio si era alzato in piedi esaltato in delirio e allargava le braccia per dare una rappresentazione mimica al moto degli astri le comete che vagano ai confini della gran nebulosa di cui noi siamo la condensazione le comete uccelli liberi e lucenti avanzano verso il sole dalle profondità dell'infinito vengono e trascinano la loro immensa coda verso l'astro splendente vengono dando alla loro corsa folle un'accelerazione tanto forte che non riescono a raggiungere l'astro che le attira dopo averlo soltanto sfiorato sono respinte nello spazio dalla velocità stessa della loro caduta ma se nel corso del loro prodigioso viaggio passano vicino a un grande pianeta si avvertono la sua influenza irresistibile che le fa deviare dall'itinerario originario allora si orientano verso questo nuovo padrone che le ha ormai imprigionate la loro parabola senza limiti si trasforma in una curva chiusa ed è così che possiamo calcolare il ritorno delle comete periodiche Giove ha otto schiave Saturno una anche Nettuno una e così il suo pianeta esterno oltre a un esercito di stelle filanti allora allora forse ho visto soltanto uno di quei piccoli mondi erranti catturato dalla terra addio signore non ditemi niente riflettete riflettete e se volete raccontate un giorno quest'episodio ecco fatto quel maniaco non era sciocco come un qualunque sfaccendato che vive di rendita grazie a tutti